Sull'inquinamento dell'aria sulle nostre scuole con edifici ormai vetusti erano problemi che abbiamo ereditato che partono da molto lontano, però sono molto felice di iniziare ad approcciarli con un modo sicuramente nuovo per la città che non è quello di trovare misure tampone o mettere delle piccole toppe ma di intervenire in maniera assolutamente strutturale. Così come sappiamo che quello del problema legato ai fenomeni di inquinamento nella nostra zona sono problemi reali, sono tipi di città che ben conosciamo tant'è che proprio oggi, voglio dire, è uscita, sono solo le 24 ore, l'ennesima classifica del 106 in questo caso, province d'Italia che prendono tutta una serie di parametri e con soddisfazione è noto che Monza è salita di 6 posizioni ma con affettante amarezza so benissimo che Monza avrebbe una posizione molto più avanzata se non ci fossero appunto questi problemi legati all'ambiente, alla qualità, alla qualità terribile.